Se in questo momento soffri di dolore o gonfiore, dai un'occhiata a ciò che stai mangiando. Evitare questi alimenti che causano infiammazione ti farà sentire molto meglio. 1. Frozen yogurt Il frozen yogurt o froyo ha due potenziali imputati per le infiammazioni. Zucchero e latte. Il latte può aumentare i livelli di insulina e degli ormoni maschili. Ed è un allergene comune, il che significa che può innescare reazioni infiammatorie. Dalla diarrea all'orticaria. 2. Arachidi Le arachidi costituiscono uno spuntino molto comune e, sebbene molti siano consapevoli dei pericoli delle arachidi salate, quelle non salate non sono ancora molto popolari. Con il burro diarachidi che spesso è aggiunto ai frullati per avere una dose extra di proteine. Tuttavia, anche se non siete allergici a questo comune allergene, le arachidi contengono aflatossine. Cosa sono le aflatossine? Beh, sono una famiglia di tossine prodotte da due diverse specie di muffe. Che schifo! Queste tossine sono considerate cancerogene e possono stimolare una reazione infiammatoria, non proprio gradita. 3. Diet Coke Se una bevanda o un alimento dichiara di essere senza zucchero, dietetico o a basso contenuto di grassi, non prendiamolo alla lettera. L'idea di uno snack o una bevanda senza zucchero potrebbe sembrare troppo bella per essere vera. E la maggior parte delle volte lo è. Al posto dello zucchero, molti di questi prodotti senza zucchero contengono aspartame, un dolcificante artificiale. 4. Cibi fritti Gli alimenti fritti contengono grassi trans. Inoltre, hanno quantità eccessive di sodio e composti chimici aggiunti. Oltre a causare infiammazioni, questi componenti causano uno squilibrio nel metabolismo. Il loro consumo peggiora i sintomi di malattie infiammatorie e, come se non bastasse, causa aumento di peso, problemi digestivi e colesterolo alto. 5. Pancetta Se è vero che la pancetta rende tutto più delizioso, è altrettanto vero che rende anche tutto più infiammatorio. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mangiare anche solo una porzione di carne lavorata, pancetta compresa, aumenta ogni giorno il rischio di cancro colon rettale del 18%. Il legame, naturalmente, è nell'infiammazione. 6. Pane bianco I prodotti di frumento, come il pane bianco e la pasta, possono causare rapidamente infiammazioni nell'organismo. Farine di grano raffinato sono state spogliate della loro fibra a digestione lenta e di nutrienti, il che significa che il corpo può metabolizzare questi alimenti molto rapidamente, dice Christopher Holdingsworth, MD, un medico endovascolare presso il New York City Surgical Associates. Più velocemente il nostro corpo metabolizza questi carboidrati, più velocemente il livello di zucchero nel sangue aumenta. Il dottor Holdingsworth ha spiegato che questo provoca un picco di insulina che porta all'infiammazione. 7. Alcol Un occasionale bicchiere di vino con gli amici non è senz'altro disastroso, ma è meglio stare attenti. L'eccesso di alcol è anche un fattore scatenante le infiammazioni, dice il dottor Holdingsworth. Bere più di un bicchiere al giorno per le donne può causare la sindrome dell'indestino che perde, portando a ulteriori patologie associate all'infiammazione. 8. Grassi saturi Diversi studi hanno dimostrato che i grassi saturi innescano l'infiammazione del tessuto adiposo, che non solo è un indicatore di malattie cardiache, ma peggiora anche l'infiammazione dell'artrite. Pizza e formaggio sono, ad esempio, le maggiori fonti di grassi saturi nella dieta media americana, secondo il National Cancer Institute. Altri imputati sono i prodotti a base di carne, in particolare la carne rossa, i latticini grassi, i piatti di pasta e i dolci a base di cereali. 9. Oli vegetali Gli oli da cucina raffinati sono fonti altamente concentrate di acidi grassi omega 6. Questi sono grassi essenziali che dobbiamo consumare, ma la maggior parte degli esperti ritiene che mangiamo troppi omega 6 e non abbastanza omega 3. Perché è importante? Il corpo usa questi grassi per creare ormoni. E mentre gli ormoni derivati dagli omega 3 sono antinfiammatori, gli ormoni derivati dagli omega 6 sono pro-infiammatori. 10. Condimenti I condimenti preconfezionati possono dare facilmente un sapore ai fagioli neri o all'insalata, ma di solito contengono coloranti artificiali, che possono interrompere le funzioni ormonali e portare a infiammazione, e una grande quantità di zucchero. Per ottenere lo stesso gusto, senza usare sostanze potenzialmente nocive, ti consigliamo una combinazione di pepe di cayenne. Sale marino, pepe macinato e aceto di sidro di mele, che puoi fare da te. Se ti piace il video, dagli un pollice alto e condividilo con i tuoi amici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.